Come ti chiami? Vincenzo Qual è il tuo nome? Vincenzo Quanti anni hai? 15 Che ne pensi di Youtube in generale? Che senso? Cosa ne pensi di Youtube in generale? Cioè... A che serve Youtube secondo te? I nuovi Youtubers sono bravi Sì Quelli che siamo più iscritti Mi serve Fare video Però c'è un'altra possibilità Che come Se c'è uno Youtubers che odio proprio Sì Se vuoi parlare in particolare di questi Youtubers che tu odi? Allora Sì Prego Sì 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 E quindi Avevo messo pure in particolare Che qua Che c'era quella Una cazza che si chiama Youtubers Diego Sì Che mi dovrebbe fare una paradigma Allora Posso presentare quelle domande? Posso? Una domanda io Allora Secondo te i Youtubers Perché fanno video per farsi i soldi? Secondo te Vogliono veramente divertire l'azienda che li guarda? Sì Sì Gli Youtubers fanno io solo per i soldi Voglievi dire che C'è Hai un odio profondo per essere tutti i Youtubers? Alcuni sì C'è uno che mi piace E sarebbe Potresti dire il nome? Se vuoi ovviamente A parte noi Non vuoi? Ok Non fa niente Non vuole Posso procedere con le domande? Sì Grazie Cosa ne pensi di Fabi J? Allora Fabi J Si vuole spasolo Allora A Fabi J ci mandai un messaggio Sì Però noi su Facebook abbiamo messo il video come una cazzalera Quello che avete visto nel video di Fabi J era una cazzalera Sì Io non ho mai conosciuto Fabi J però Ci ho mandato un messaggio In privato? Su Youtube? No no si Eh su Youtube Un messaggio proprio su Youtube In privato E io ho detto C'è se rispondi questo messaggio Però non mi ha risposto dove va Arrivare settimane Ma tu avevi detto che subito dal risposto hai detto Che cazzo vuoi senti di Colpa J? Eh eh Ho detto che cazzo vuoi Che cazzo sei? Ha detto che ha detto una palla Allora ha detto una bugia Se volete porti mi non vedete Non dovrei farlo Va bene Allora No allora 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 che c'è Ma cosa ne pensi per le domande J? C'è lo odio, lo vuoi bene Rispetto Cosa? Non è niente Non è una persona normale È una persona normale No Secondo te Non so No 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 secondo te Sono bazzisti Ti piacciono? I fan bazzisti I fan bazzisti I fan bazzisti Ti piacciono Fanno le parodie Ok Eh Allora C'è Questa storia è andata Il fatto che tu O devi fare il Fabi J Che tu avevi conosciuto C'è Tu e Fabi J Questa lotta si può dire Infatti me ne ha parlato molte volte Come c'è Si C'è lui ne ha parlato molte volte E C'è Molte persone hanno parlato Il tuo video Tu sei stato famoso Molte parole Molte persone In effetti Ho fatto quel video Solo per avere molti iscritti Per avere gli iscritti Perché quando Non avevo fatto quel video Non avevo proprio neanche uno iscritto L'avevo 4 o 5 Poi Appena ho fatto quel video Nel 106 mila Sono arrivato di uno iscritto Allora Sapessi Cioè Infine cosa ti ha fatto Fabi J Infine cosa ti ha fatto Fabi J Infine cosa ti ha fatto Fabi J Che tutti quanti ne parlano Tutti quanti conoscono Come la persona che odia Fabi J Volessi mi dire qualcosa In contrario Oppure No 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 non faccio proprio Anzi Mi sono pure iscritti a seminario Ah bene Poi Posso continuare o vuoi approfondire la questione? No Aspetta Una domanda ma tu non ti sei usciuta a questo canale dopo tutte quelle balle che hai detto a me questo sentito un po' vicino che ti sento la voce ecco dopo tutte quelle balle che hai detto ecco ma per ringgire ma guarda tu hai sfruttato odio il video odio il famiglio di entrare così di iscritti e così di iscritti infatti allora cioè un attimo cioè hai fatto quest'anno per avere gli iscritti e non potevi domandare a lui nel suo video se ti poteva fare la pubblicità a forza che mi mandate costa le luke ma in realtà io ce l'ho detto nel messaggio che stavo scritto fa visto che ho paio di iscritti si sono venuta un pubblicità su pubblicità eh no no una pubblicità un consiglio su come avendo che lui sono iscritti e mi ha detto fa un video e vado a fare un trade e subito ti... ha detto a lui allora che lui deve fare un video ha detto a lui che hai visto che... allora lento ok continuiamo con le domande vada 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 questa è l'ultima domanda che abbiamo scritto e continuiamo a fare poi non so se loro vorrebbero fare altre domande oppure a me verrebbero qualcosa oppure tu vorresti di qualcosa cosa farei su in futuro col tuo canale? cioè vorresti dire... no ma io credo che questo che... questo che... questo proprio internet questo proprio internet credo che apri un nuovo canale un nuovo canale? credo ma... credo ma... credo ha detto forse non è proprio le certezze che quello vuoi aprire e se non aprirai in che consisterà? che farei questo video? cosa farai? e poi? e poi andavo a fare i video su parodie sulle persone i giochi facevo i video sui giochi ma tu mi ricorda un video abbiamo un video sui giochi che tu qua dici che a Vigeti ha copiato poi vedo i tuoi giochi e più ilz e eccetera o meagl allora... se devo dire la vita e tutto è... c'è una cosa diversa queste cose... i giochi ma la vedo eliminata se non mi viene... perchè ho messo il nome cimboacchi cimboacchi cazzo per piacere no per piacere non dica parole cimboacchi cimboacchi è una brutta parola non vogliamo no stai dicendo cazzo vabbè continuo vabbè e quindi ci ho messo questi nomi questi nomi studi cioè no studi i tuoi nomi migliori perchè se io ero minorente non potevo fare un gioco con le mie cose ti hanno aiutato con le persone adulte diciamo 18 anni no io ho sette sei sì sì vabbè se io ero minore è un'altra cosa allora a noi ci basta questo materiale che abbiamo raccolto se ce ne aiuteranno altri deve chiedertelo e per me va bene così rivederci no aspetta devo fare un canazzo se veramente lo mettessi su youtube no devo fare un canazzo se veramente lo mettessi su youtube come finivo sempre nei video come finivo sempre nei video come finivo sempre nei video ce la voglio ah no 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 e anche questo video è finito iscrivetevi al canale di Vincenzo Ducero per oggi è finito e bella ragazzi è finito che